I lavori dell'Assemblea regionale siciliana sono stati sospesi per mancanza di numero legale e rinviati a martedì prossimo, mentre era in corso l'esame del DDL sugli interventi per lo sviluppo dell'attività sportiva del golf. Sulla definizione di questo provvedimento insistono il governo e la maggioranza ai centrodestra. Per l'opposizione invece l'attività legislativa dovrebbe proseguire con il confronto sui disegni di legge che riguardano le attività teatrali, i catalogatori e le famiglie delle vittime del mare. Il rinvio dei lavori è stato proposto al vicepresidente della regione, Lino Leanza, dopo che la seduta era stata sospesa per un'ora dal momento che, su richiesta delle opposizioni, era stato verificato che l'Assemblea non era in numero legale. Il presidente di turno dell'Assemblea, Raffaele Stancanelli, prima di chiudere i lavori, ha convocato per oggi la conferenza dei capigruppi. E' polemiche per l'ennesimo rinvio dei lavori d'aula, da Rita Borsellino a Rosario Rappa a Francesco Cantafia per il centrosinistra, ma anche esponenti del centrodestra, come Salvino Caputo, che chiederà alla maggioranza di ricompattare una coalizione assente.